Presidente Toma, oggi c'è stata la consegna di quattro nuovi autobus in favore della regione molise. Quattro nuovi autobus li abbiamo consegnati alle prime due aziende, continueremo con altri 24 autobus che sono pronti, dotazione tecnologica all'avanguardia, sicurezza aumentata, pianale ribassato per rendere comodo anche alle persone anziane la salita, Euro 6 che rende l'autobus meno inquinante, questa è la tecnologia che ci piace, gli autobus sono in proprietà della regione molise e vengono concessi alle aziende del trattamento pubblico locale in una formula che tecnicamente si dice in usufrutto oneroso, rimangono in proprietà della regione ma le società di autoline ci rivolgono un canone che in qualche maniera ammortizza l'autobus. Presidente, un primo passo per svecchiare il parco mezzi del trasporto pubblico exurbano? Presidente, un primo passo, un passo importante, un passo a cui seguiranno altri passi, le dicevo prima, questi 4 punti non ce ne aggiungono altri 24, ma in tutto dovremmo completare un investimento di 70 milioni.